Allora Filippe, come ti senti? Ma è un po' strano perché so esattamente tutto quello che è successo quando ho preso la molla della macchina di Rubens e sono uscito e è capitato qualcosa con me, però queste cose non lo so, queste cose non ho sentito niente, cioè io mi sono svegliato in ospedale dopo due giorni fa, che questa cosa era successo, che era sabato, mi sono svegliato martedì in ospedale e era tutto un altro discorso, quindi io non sapevo che tutto questo era successo e quindi per me è una situazione molto strana. Ma adesso la vigilia della partenza per il Brasile ti senti meglio? Adesso mi sento molto meglio, so quello che è successo, ho visto un po' tutte le cose che è capitato, ho visto quello che mi hanno fatto in ospedale, mi faccio anche vedere qui che sono ancora un po' operato e adesso sono nella condizione di tipo voglio migliorare il più velocemente possibile, voglio ringraziare tutta la gente che hanno lavorato per me, la gente che hanno pregato per me, la gente che erano in circuiti, la gente che erano a scrivere a casa, gli ospedali, quindi questo devo dire che è l'unica cosa che voglio fare perché hanno fatto tanto per me qui. Sai che tanta gente ha mandato dei messaggi alla Ferrari, al tuo sito, tanta gente ha pregato per te, a loro cosa vuoi dirgli? Io voglio solo ringraziare perché io farei la stessa cosa, io anch'io se fosse a casa e avrei visto una cosa così succedere con un altro pilota che mi piace, che sono lì a spingere, a provare a vedere se lui vince la gara, e succede una cosa così, farei anch'io la stessa cosa che forse questa persona ha fatto per me. E quindi ringraziare, ringraziare tutta la gente che hanno pregato per me, che hanno voluto che il bene, che il finale, che si finisce con il bene alla fine, e quindi ringraziare a Dio perché è la cosa più importante che dobbiamo fare in questo momento. È venuto a trovarti Michael l'altro giorno, userà la tua macchina per un po', gli hai dato qualche consiglio? Non penso che dobbiamo essere qui a dare consigli a Michael, è uno che sa vincere, sa guidare, è bravissimo, quindi sono sicuro che la mia macchina sarà con una persona fantastica, che tutti saranno molto contenti di vedere lui a correre, però spero anch'io che riesco a migliorare il più velocemente possibile, ritornare il più in fretta possibile in macchina e essere lì in gara con la Ferrari. Presto sarai a casa in Brasile, quale sarà il tuo primo desiderio? Il primo desiderio è entrare a casa, vedere a casa tua che è ancora lì, niente è successo, che anche se tante cose sono successe in queste una settimana, che è cambiato tantissime cose, voglio ritornare a casa, voglio migliorare, voglio uscire dal problema che sono ancora, infatti il problema che voglio più velocemente possibile è tornare sulle cose normale. Quanto è stato importante il sostegno della tua famiglia in questi giorni? Per me la famiglia è una cosa molto importante, io ho sempre avuto la famiglia molto molto vicino a me, anche prima dal go kart, da tutte le altre categorie che ho corso, e quindi per me la famiglia fa parte della vittoria, del momento difficile, una gara difficile, e quindi la famiglia oggi, questa settimana, che è stata una settimana molto difficile per me, la mia famiglia ha sofferto tantissimo e quindi fa parte di me, la mia famiglia. E quindi questa è una cosa molto importante e voglio ringraziare tanto a loro di essere qui con me, di essere qui a questo ospedale, a provare a uscire, pensare nel prossimo passo, e quindi la famiglia per me è una cosa molto importante. A parte la famiglia, a parte la mia famiglia, la Ferrari è una famiglia, la Ferrari è una famiglia dove tutti che piacciono la Ferrari sono un po' della famiglia Ferrari, e quindi questo fa anche tanto nel discorso di guardare le corse, guardare le gare, le prove, i risultati, quindi fare parte della famiglia Ferrari è una cosa che veramente mi fa tanto e mi dà tanta emozione, e sono molto contento di questo.